Siamo qui, hanno già premiato Andrea Cesari Junior, eccolo qua. Raccontaci un po' la seconda mancia, abbiamo visto che hai provato fino in fondo a riprendere il gap che c'era in prima mancia. Com'è andata? Dai! Sono partito bene, partito in testa. L'unico problema è che ho allargato un po' la prima curva, mi sono stato infilato da mattina. Ci siamo fatti i primi 4-5 giri a studiarci, uno dietro l'altro. L'unico problema è che dopo ho commesso un po' troppi errori che mi hanno fatto un po' scappare Mattia, però ho sempre tirato fino alla fine e non posso... C'avevi i tempi nelle braccia, sì? Sì, no, non ero abbastanza... stavo bene, verso gli ultimi due giri non ero un po' così, però sono abbastanza contento del risultato e... Insomma, è una sfida che riproporrai, via, verrà riproposta. Buono, buono, vedo che gli avversari hanno paura e questo è buono. Va bene. Ci vediamo nel prossimo crossodromo. Grazie mille. Bravo Andrea, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao.